Numeri positivi per l'export abruzzese, è importante tutto questo anche in un periodo di congiuntura negativa a livello nazionale, i numeri del paese dicono altro, in Abruzzo invece c'è questa ripresa importante. Facciamo nei primi sei mesi del 2016 500 milioni in più di export, il che vuol dire naturalmente ricchezza e occupazione in più per la nostra regione, anche se come abbiamo rilevato vengono fatti principalmente da grandi e medie aziende. Un punto di partenza sicuramente non di arrivo? Sì, ripeto sono numeri molto positivi, adesso dobbiamo fare in modo che anche il mondo che noi rappresentiamo, quello dell'artigianato, delle micro imprese, possano beneficiare di questa ripresa e possano fare anche loro attività di export importante perché in questa fase sono un po' ai margini. È stato buono l'incremento per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi UE, ma è stato ottimo l'incremento che riguarda le esportazioni verso i paesi extra UE. Per quanto riguarda i prodotti, per i prodotti si ripete l'incremento buono dovuto all'automotive, c'è anche una nota positiva dall'anno scorso dell'incremento dei prodotti elettronici per merito del polo elettronico dell'Aquila, ma la cosa veramente nuova e da tenere in netta considerazione è il fatto che sono aumentate le esportazioni dei prodotti diversi da questi primi due, che sono una novità in quanto negli anni precedenti questo tipo, tutti gli altri prodotti hanno sempre subito un decremento, mentre quest'anno c'è un incremento ed anche consistente. Bene anche come sempre l'agroalimentare. L'agroalimentare è oramai una costante dell'incremento, adesso è tornato a crescere con percentuali da due cifre, quindi insomma tutto bene.